Giuseppe Zanardelli, autore del primo codice penale italiano, nasce a Brescia il 26 ottobre 1826. Studente di giurisprudenza a Pavia, nel 1848 partecipa alle rivolte popolari anti-asburgiche, si arruola volontario e combatte nel Trentino, ma dopo la sconfitta di Novara, si rifugia in Toscana. Nel 1859 il suo invito di Garibaldi organizza l'insurrezione di Brescia. Eletto deputato per la settima legislatura, rimarrà ininterrottamente in Parlamento fino alla ventunesima legislatura del Regno d'Italia. Nel 1876 caduta la destra storica, assume il dicastero dei lavori pubblici nel primo gabinetto de Pretis, tuttavia nel dicembre 1877 l'opposizione al progetto di legge sulle convenzioni ferroviarie, giudicato contrario all'interesse pubblico, lo porta a rassegnare le dimissioni. Torna al governo con Benedetto Cairoli nel 1878, ma in novembre l'attentato commesso contro il re da Giovanni Passanante determina la crisi del gabinetto. Ripresa con successo l'attività forense, pubblica l'avvocatura. Nel maggio 1881 è nominato ministro di Grazia e Giustizia nel quarto governo de Pretis. Contrario alla pratica del trasformismo, si dimette, quindi, riaccostatosi a de Pretis, riprende il suo posto al Ministero di Grazia e Giustizia, in carico che manterrà nei primi due esecutivi, guidati da Francesco Crispi. Autore del primo codice penale dell'Italia Unita, che a partire dal 1 gennaio 1890 cancellerà la pena di morte e sancirà la libertà di sciopero e di riunione, nel novembre 1892 diventa Presidente della Camera. Risale a questo periodo la tradizione del dono del ventaglio da parte della stampa parlamentare al Presidente dell'Assemblea. Nuovamente Presidente nel 1897, alla fine dell'anno, torna al governo con Rudini, ma nel maggio del 98, contrario ai provvedimenti sull'ordine pubblico, si dimette. Eletto per la terza volta alla Presidenza della Camera, rassegna le dimissioni perché è contrario all'aumento delle spese militari. Partecipa quindi attivamente alla campagna ostruzionistica contro il governo Pellù. Il 15 febbraio 1901, ormai 75enne, diventa Presidente del Consiglio. Sotto il suo impulso, il Parlamento rinnova la protezione del lavoro femminile e minorile e vara due leggi che finanziano il risanamento e lo sviluppo economico di Napoli. Il 21 ottobre 1903, Zanardelli stanco e malato, si dimette. Muore a Maderno il 26 dicembre dello stesso anno. Grazie.